Bentornati cari ascoltatori di Radio Puginion Air, oggi siamo qui per tuffarci di nuovo insieme nel mondo della musica pop e scoprire insieme il tanto atteso nuovo album di Dua Lipa intitolato Radical Optimism. L'annuncio ufficiale è arrivato attraverso un post su Instagram della stessa Dua Lipa che ha scatenato un'ondata di entusiasmo tra i suoi numerosi fan sparsi per il mondo. Il terzo album in studio della Popstar è previsto per il 3 maggio dopo una lunga attesa e un'anticipazione carica di suspense. Ma parliamo della copertina. Questa immagine che cattura l'occhio e l'anima mostra Dua Lipa mentre galleggia nell'oceano con una maestosa pinna di squalo che ruba la scena. Sebbene la presenza dello squalo possa far presagire un senso di pericolo imminente, l'atmosfera che traspare è sorprendentemente di pace e tranquillità in perfetta sintonia con il titolo stesso dell'album. Il progetto Radical Optimism sarà composto da un totale di 11 tracce, ognuna delle quali promette di trasportare l'ascoltatore in un viaggio emozionante e coinvolgente. Tra queste troviamo i già noti singoli Udini e Training Season, i quali hanno già scalato le classifiche di tutto il mondo, debuttando rispettivamente al numero 11 e al numero 27 della prestigiosa Billboard Hot 100. Tuttavia la sorpresa più grande potrebbe essere la mancanza di collaborazioni nell'album. Dua Lipa ha deciso di lasciare spazio solo alla sua voce e alla sua creatività, prendendo completamente in mano le redini del suo lavoro e portando avanti un progetto che è totalmente e unicamente suo. Ma cosa si cela dietro il titolo Radical Optimism? Dua Lipa stessa ha condiviso con i suoi fan il significato dietro questo termine, raccontando di come fosse rimasta affascinata dal concetto di affrontare il caos con grazia e di sentirsi in grado di superare qualsiasi tempesta. Questa idea di ottimismo radicale l'ha ispirata e ha plasmato il suo approccio alla vita e alla musica. Nel post su Instagram la cantante ha anche spoilerato la tracklist dell'album che include titoli intriganti come Hand of an Era, French Exit, Maria ed Happy for You. Insomma, ci aspettiamo un viaggio musicale straordinario attraverso cui Dua Lipa ci condurrà con eleganza e fiducia attraverso i momenti tumultuosi della vita. Siamo pronti ad abbracciare questa nuova era musicale e a condividere con voi ogni emozione e riflessione che essa susciterà. Restate sintonizzati su Radio Puginion Air per tutte le ultime notizie e approfondimenti sul mondo della musica ed ora alziamo il volume e lasciamoci trasportare dal meraviglioso mondo sonoro di Dua Lipa e del suo ottimismo radicale. Alla prossima puntata di Radio Puginion Air.